Io prenderei solo un minuto per ricordare Walter Fossati, che forse tanti di noi conoscono, hanno conosciuto e che ci ha lasciato appena una settimana fa. Ieri, il giorno della festa della donna, avrebbe compiuto 90 anni. La figura di Walter rispetto a tutta la riforma sanitaria ancora prima dell'approvazione del 78 è stato proprio un attivista, c'è proprio che l'ha sostenuta, che l'ha diffusa, che ha praticamente cercato di metterla in pratica durante tutta la sua attività. Nel sindacato e nella CISL come responsabile della sanità in primo luogo e poi successivamente si è dedicato sia alla formazione, perché era un docente di politica sociale, in una scuola per assistenti sociali e educatori e poi nelle varie associazioni rispetto ai problemi legati alla disabilità, alle dipendenze e alla persona anziana. Vorrei ricordare di lui soprattutto la sua disponibilità che non era una parola per lui, era una disponibilità fattiva a partecipare, a promuovere e assistere ad assemblea e soprattutto a studiare e a lavorare e a produrre strumenti e documenti, quindi una disponibilità proprio fattiva e attiva. E poi il suo ascolto per tutte le persone, per tutte le richieste non si è mai tirato indietro, per cui per noi lo teniamo nel nostro cuore adesso e cercheremo proprio di continuare un po' con le sue qualità per quello che è per noi e nelle nostre possibilità. Ebbene, per sempre Walter, sull'incontro di questa sera, che è il secondo incontro che riguarda la salute della donna, però questa sera andremo proprio a esplorare dei terreni ancora abbastanza poco emersi, perché quando diciamo medicina di genere, salute donna e lavoro, apriamo proprio dei capitoli che hanno bisogno proprio di essere ancora studiati e diffusi. La posizione della donna nel lavoro, l'abbiamo visto anche in questo periodo di pandemia, è proprio una posizione di difficoltà, sia perché il doppio ruolo li ha tenuti proprio 24 ore al giorno in pista, sia nel lavoro che a casa. E anche perché se guardiamo le cifre che abbiamo sotto gli occhi di quello che è successo durante la pandemia, abbiamo visto che solo a dicembre, sulle 101.000 persone che hanno perso il lavoro, il 99.000 sono donne. E quindi noi ci dobbiamo chiedere, ancora prima di riguardare il discorso della salute, qual è la condizione nel lavoro. E quindi vediamo che la donna ha molto più spesso contratti a termine e quindi una valenza di precarietà nel lavoro. Spesso occupa, non un lavoro a tempo pieno, un part-time che non è un part-time spesso volontario ma imposto, il 70% dei part-time è donna e poi le donne sono spesso confinate in settori proprio tipici, nei servizi, nella ristorazione, nelle mense, nel turismo, che sono proprio i settori che hanno sofferto di più durante questa pandemia. E anche nelle mansioni di lavoro operaio vediamo che quando si dice adetto a, la donna ha, diciamo, delle mansioni che rimangono sempre le stesse, allora che i compagni maschi, dopo un periodo iniziale, diciamo, di mansioni semplici, riescono a fare una carriera, soprattutto movimentando, essendo messo alle macchine. Quindi ci sono proprio delle diversità che riguardano anche un lavoro quando viene detto a mansioni uguali. Quindi credo che interessarsi proprio della salute della donna nel lavoro sia veramente molto importante e va tenuto proprio conto di tutti questi aspetti, della fatica, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi di lavoro, degli orari, della gerarchizzazione del lavoro. Quindi è una materia molto complessa che proprio con piacere questa sera andremo proprio a disboscare. E arrivo a presentare le tre relatrici, Donatella Albina che è già intervenuta la prima volta sulla salute riproduttiva e che si interessa proprio di medicina di genere. Tiziana Vai che è medico del lavoro della TS di Milano ma che conduce insieme ad altri il gruppo Salute Donna CGL CISLUIL quindi studia proprio gli aspetti donna nel lavoro. Siria Garattini che anche lei è medico del lavoro a Brescia e credo che visto che Brescia è una città che vede le comunità straniere molto presenti ci darà uno sguardo proprio più specifico sulla salute delle donne migranti nei loro lavoro. E infine Andrea Micheli che è l'epidemiologo che è intervenuto già martedì scorso e che vorrà riprendere su input di Carmina quello che è le differenze donne e uomini in termini di salute una questione che aveva posta quando si dice che il virus è meno aggressivo sulle donne se questa è vera o non è vera quindi adesso lascerei proprio la parola alla prima relatrice a Donatella Albini ringraziando tutte e tutti e una buona serata. Sì buonasera anche da parte mia a tutte e a tutti mi faccio aiutare da qualche slide perché è chiaro che la mia è proprio stasera un'introduzione l'altra volta parlavamo un po' centralmente di medicina di genere questa è un po' quindi le faccio scorrere perché voglio fare proprio una conversazione con voi non è casuale questa prima immagine queste sono le magistre salernitane perché le donne poi lo vedremo sono state cancellate di fatto dalla medicina dopo il male os maleficarum ma prima nel tredicesimo secolo erano loro che insegnavano medicina alla scuola medica di Salerno e questa era un'immagine di loro e quindi ci è piaciuta molto poi vi dirò perché dico uso il termine plurale non perché mi sento particolarmente importante perché si è costruito in gruppo qui nella mia città Brescia su questa cosa vai pure avanti noi sappiamo tutti che la medicina ha avuto dalle origini un'impostazione androcentrica quando ci si interessava di salute femminile si parlava generalmente di riproduzione però dagli anni 90 in poi lo vedremo più avanti c'è stata una profonda evoluzione un approccio innovativo in cui siamo andati a studiare l'impatto del genere e di tutte le variabili come si diceva prima che lo caratterizzano biologiche, ambientali, culturali, sociali ed economiche sulla normalità del corpo e della salute ma anche sulle malattie quindi la storia della differenza di genere in realtà in medicina è recentissima e devo dire non sempre affrontata in maniera corretta vai pure avanti grazie la maggior parte degli studiosi ignora semplicemente che esiste una questione di genere e si è costretta a prenderne atto la liquida come significante e qui secondo me calza a pennello quello che disse Simone de Beauvoir nel 70 anche la rappresentazione del mondo come il mondo stesso e opera degli uomini i quali lo descrivono dal proprio punto di vista confondendolo con la verità assoluta vai pure avanti oggi va di moda per esempio parlare di medicina personalizzata ne avrete sentito parlare tutti cioè la possibilità per ogni persona di trovare la medicina giusta sulla base della genetica però forse prima di arrivare a questo potremmo concentrarci sulle differenze più evidenti che hanno influenza sulla salute cioè le diversità le diversità non finirò mai di sottolinearlo sociali e culturali oltre che naturalmente psicologiche e biologiche vai pure avanti grazie e i fattori quindi possiamo già avere un primo punto che i fattori biologici e sociali determinano differenze tra uomini e donne sia in termini di stato di salute che di accesso ai servizi sanitari quindi la prossima è chiaro che attraverso questa scienza multidisciplinare in cui con la ricerca e con la clinica si va a vedere la frequenza e il modo in cui si manifestano le malattie si va a guardare anche la risposta alle terapie che non è uguale negli uomini e nelle donne quindi genere determinante per garantire agli uomini e alle donne la tutela del proprio benessere e soprattutto il miglior approccio clinico diagnostico e terapeutico perché si arrivi a una salute collettiva buona vai pure avanti la medicina di genere si pone pertanto come obiettivo quello di realizzare una condizione di salute anche a partire dai determinanti di salute che sono quelli sociali, economici, ambientali e di genere ma anche quelli che hanno a che fare con i cosiddetti stili di vita io lo dico subito non amo molto la questione degli stili di vita che pure c'entrano quindi la tendenza al fumo, l'attività fisica, l'alimentazione eccetera però noi sappiamo bene quanto questi determinanti cosiddetti individuali abbiano a che fare comunque con determinanti di tipo socio e economico e comunque questi sono dati da tenere differenziati sempre tra uomini e donne va pure avanti quindi possiamo dire secondo punto clou le differenze di genere influiscono su prevenzione, diagnosi e cura delle malattie va pure avanti e questo è l'altro punto cruciale e capiremo che è nata da qui l'osservazione della medicina di genere cioè la medicina critica orientata a cogliere le differenze di genere rispetto ai processi di salute e di malattie ha permesso negli ultimi anni di svelare l'arcano di tanti fallimenti diagnostici e terapeutici nei confronti delle donne e della loro salute ad esempio si è visto che le placche aterosclerotiche nelle donne sono differenti dagli uomini si rompono, si spezzano, si studiate la semplificazione del discorso comunque danno luogo a trombi e ad emboli in maniera differente e quindi l'approccio terapeutico deve essere differente però di questo non se ne è mai fatto cenno almeno fino a una ventina d'anni fa anche non solo ma non si tiene conto quando si parla anche di dati di tipo clinico delle condizioni di vita delle donne nella determinazione della diagnosi dei piani di trattamento e quindi di fatto quindi ad esempio l'esposizione a fattori di violenza per dirne una e noi sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo dice chiaramente quali sono, qual è l'approccio la percezione di salute di donne che subiscono violenza domestica se non e anche naturalmente psicologica fisica, economica cioè tutto il quadro della violenza lo dice quali sono, qual è l'approccio agli ambulatori medici quali sono le malattie che presentano di più al di là ovviamente della problematica di tipo psicologico il problema è che se noi non stiamo attenti a questo noi quando vediamo donne che lamentano tanto il mal di schiena faccio una banalità e continuano ad accedere al pronto soccorso inventando una volta il colpo di freddo una volta il colpo di frusto una volta la porta sulla schiena e vengono prese così poi improvvisamente ti rendi conto basta sfogliarle che sotto c'hanno ematomi un ematoma sulla schiena un ematoma nell'incavo delle ginocchia perché lì dove picchiano di più gli uomini scusate la brutalità ne ho viste tante e mi fa parlare l'esperienza i volti che ricordo è chiaro che se noi non abbiamo questo sguardo noi pregiudichiamo la salute quando non la vita stessa della donna quindi è proprio uno sguardo di genere quindi l'osservazione prevalentemente di tipo naturalistico cioè vabbè lo sappiamo la donna che è in difficoltà quando aspetta un bambino oppure che non vuole un bambino oppure che in menopausa si rivolge al medico se tu non dai uno sguardo attento a dove, come vive qual è il suo racconto della sua vita rischiamo di non capire nulla sulla sua salute e di non arrivare alle condizioni che ci possono essere e sono purtroppo molto diffuse di oppressione e di violenza familiare io purtroppo dico purtroppo ho fatto molti corsi di formazione sulla violenza anche a medici di medicina generale anche i corsi di formazione regionali e spessissimo mi sento dire ma a noi cosa interessa? a noi interessa curare la persona e basta non ci interessa guardare quello che c'è fuori dal nostro studio lo dico perché mi è successo all'inizio mi arrabbiavo dopo stavo un po' più placata dicendo ovviamente quello che pensavo vai pure avanti è quindi importante che esista una medicina di genere che promuove i bisogni di salute delle donne vai pure avanti questi perché sappiamo che i tassi di morbilità e mortalità tra le donne sono un aumento in tutto il mondo per patologie non sesso virgola naturalistico specifiche e ci sono ritardi nella ricerca dei fattori eziologici e di rischio perché non viene accolta complessivamente la realtà delle donne quindi noi prego pure avanti possiamo dire tranquillamente che questo è il terzo step che la medicina di genere si pone di svelare i pregiudizi mettere a fuoco i fattori di rischio sviluppare mettere in rete le informazioni per promuovere la salute e pure avanti quindi è chiaro che è indispensabile oggi per qualsiasi operatore operatrice sanitaria che abbia a cuore la salute di chi ha di fronte soprattutto stiamo parlando delle donne anche qualora si tratti solo di una procedura diagnostica ovviamente o che della cura e anche della prevenzione lo vedremo alla fine nella ricerca avere questo sguardo attento avanti all'inizio degli anni a metà degli anni 80 si è cominciato a parlare negli Stati Uniti ma la vera svolta vai pure avanti è stata con questa cardiologa americana che si chiama Bernard V. Haley che ha pubblicato questo articolo sull'autorevolissimo New England Journal in cui ha fatto l'ha chiamato la sindrome di Yentl c'è stato un film con Barbara Streisand se voi vi ricordate e in questo film c'era Barbara Streisand che cercava di essere di iscriversi alla scuola rabbinica e non poteva iscriversi perché era una donna e si travestì e la stessa cosa che dice Bernard V. Haley dice è andata a vedere molte donne ricoverate con situazioni gravi di patologia cardiovascolare nel suo istituto e si accorta che all'approccio o ambulatoriale o di emergenza venivano prese non in considerazione i sintomi perché i sintomi dell'infarto ad esempio vi do un'altra pillola sono diversi nella donna rispetto all'uomo è capitato in una conversazione fatta qui nella mia città qualche anno fa da parte di una medica d'emergenza che ci raccontò di una donna che diceva io ho quattro uomini in casa passo saluto e domenica a stirare aveva un dolore scapolare un po' intenso finalmente è andata in ospedale le hanno dato un antidolorifico e ritornate aveva un infarto ve la faccio molto breve e questa cosa ha detto forse il suo racconto era quello e nessuno ha pensato che forse andare a vedere la localizzazione dei quadri di infarto anche non tipici essendo una donna era meno considerata poi iniziano queste le puoi far scorrere rapidamente iniziano tutte queste cose nel 94 qui mi fermo perché in realtà faccio una riflessione sull'oggi nella quarta conferenza delle donne pettine nel 95 e si scrisse e lo sottoscrissero quasi tutti gli stati di inserire la prospettiva di genere in ogni scelta politica soprattutto in materia di salute e sulla ricerca vai pure avanti però questa e si stabilì che tutte le azioni programmatiche dovevano avere a che fare con le eguaglianze e l'equità anche in termini di salute avanti però noi dobbiamo dire oggi voi sapete vi ricordate che a settembre dovevamo festeggiare se così si può dire i 25 anni della conferenza di Pechino ma questa tragedia del covid mondiale questa pandemia in realtà che cosa ci porta 500.000 adolescenti in più costretti a matrimoni forzati a quasi un milione di gravidianze precoci in più di spose bambine che sono non hanno più lo scudo dell'istruzione quindi sono perse in questo mondo così violento ed è questo che noi dobbiamo tenere presente che differenza c'è tra equità e uguaglianza perché l'equità di genere non è solo una questione di giustizia di diritti ma è fondamentale per produrre la ricerca e la migliore assistenza quindi è chiaro che se la scienza la medicina e la salute globale lavorano per migliorare le vite umane devono essere rappresentative di tutta la società in cui sono a servizio e non solo di una parte avanti poi l'OMS è andata avanti queste le puoi far scorrere è andata avanti sul tema del genere queste sono le indicazioni che dà l'OMS quando si fa una ricerca mi vengono in mente le ricerche l'avevi accennato prima sul covid per non parlare di un tema molto lontano da noi è chiaro che dobbiamo considerare quando facciamo una ricerca che riguardano uomini e donne quali sono i ruoli e le responsabilità che hanno la posizione sociale l'accesso alle risorse le regole sociali che governano i comportamenti maschili e femminili perché questo ha un effetto sulla salute avanti poi va avanti anche lei ma a lavorare su questo vai pure avanti questo è sul piano strategico americano ancora quindi vedete c'è stato pure avanti vai pure avanti facciamole scorrere il Parlamento Europeo finalmente in Italia arriviamo alla fine del 98 con questo primo progetto vai pure avanti in cui venne definito un gruppo di ricerca vai pure avanti con a capo Ilvira Reale che è una straordinaria psicologa di Napoli che ha molto lavorato soprattutto sulle donne più emarginate ha messo insieme questo gruppo questo team e pure avanti qui però mi viene da fare una riflessione e ha prodotto questo primo report una salute a misura di donna quella di cui più o meno parliamo oggi e pure avanti questa è una riflessione che voglio dire perché è importante questa Schabinger che è una storica della scienza dice analizzando il modo in cui la presenza di donne attenzione con una storia femminista cioè che hanno fatto una riflessione su di sé e sul mondo con lo sguardo che dicevo all'inizio ha ridisegnato il senso delle domande in molte discipline scientifiche e quindi è cambiato lo sguardo vai pure avanti ad esempio si è visto in molti campi anche della medicina si è capito che il modello non era neutro ma chissà perché sono state proprio donne con questa storia con questo sguardo e con questa cultura femminista vai pure avanti che non è di poco punto quindi servono donne per conoscere la storia di una e di tante donne che hanno pensato parlato e scritto è importante per capire per ognuna di noi da dove veniamo e dove vogliamo arrivare va pure avanti non è un esercizio formale questo ma è inevitabile per guardarci dentro e agire va pure avanti è caro che noi abbiamo attraversato la stagione dei diritti la stagione della libertà la stagione della politica però adesso dobbiamo mettere insieme tutto questo e agire laddove noi siamo stiamo parlando della medicina in questo momento perché io quello sono vai pure avanti e poi siamo andati avanti sempre in Italia 2003 fai pure scorrere tranquillamente lo stesso nel 2005 salute delle donne farmaci per le donne è la prima volta che se ne parla quindi vedete che sono tempi molto recenti vai pure avanti ci sono molte iniziative arriviamo all'istituto di superiore sanità che ha fatto questo centro di riferimento vai pure avanti e poi questo è l'altro tema importante l'altro punto fermo è chiaro che se noi parliamo di strategie per dare risposte e superare le disuguaglianze non sono questioni di donne ma serve la piena partecipazione mi viene da pensare la condivisione politica di tutti e tutte soluzioni strutturali vai pure avanti questo è ad esempio l'avevi accennato prima ne abbiamo parlato tanto ieri questo tempo lunghissimo del covid che stiamo vivendo ha disvelato che le donne sono quelle che svolgono i servizi essenziali che si prendono cura della quotidianità della convivenza che hanno lavorato duro sono state più esposte al contagio lo dice bene il rapporto Inel che è uscito per l'8 marzo vai pure avanti e la pandemia in realtà ha sollevato il velo sul lavoro delle donne tutto il lavoro a partire dal lavoro domestico che non è una faccenda privata ma necessità sociale lo stiamo vedendo di nuovo noi pensate che a Brescia in cui il virus non è un passo avanti noi ma dieci passi perché qui non sta succedendo nulla solo il virus e ce ne rendiamo conto quindi è chiaro che il lavoro delle donne è determinante perché il paese possa sopravvivere confermo quello che è stato detto all'inizio naturalmente prego a Brescia abbiamo fondato dal 2017 questo centro eravamo quattro le due col bicchiere siamo io e un'altra medica perché il tutto è nato davanti a un bicchiere di Pirlo non so se lo conoscete insomma è l'aperitivo tipico della nostra città vai pure avanti abbiamo fatto incontri ogni mese con la popolazione e con abbiamo coinvolto un po' tutte le istituzioni abbiamo fatto incontri ogni mese su temi di salute con donne mediche essenzialmente e rivolto a tutta la cittadinanza molto molto partecipati e stanno continuando adesso lo facciamo un webinar vai pure avanti 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 e questo è un po' il tema poi se volete ve le lascio per sapere un po' quello che abbiamo fatto vai pure avanti 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 mi interessava arrivare ecco questo è chiaro che la medicina di genere non è solo medicina delle donne né la medicina esercitata dalle donne medico anche questo è fondamentale e qui falle pure scorrere qui mi piace ricordare perché non è casuale vai pure avanti è tranquillo che ci siano come mai adesso tante donne pare che siano circa il 54% ma in realtà le donne medico sono sempre esistite sempre dall'età egiziana nella scuola babilonese ad Atene Ippocrate non voleva le donne allora le donne l'hanno inventato sulla costa di fronte di Cmido nella scuola romana queste erano mediche greche che dovevano insegnare schermate da un velo e Antiocles per esempio ha scritto lei i primi testi per Galeno ma nessuno lo deve sapere sono testi scoperti da poco vai pure avanti quindi è una storia lunga che hanno le donne nella medicina non è recente in realtà tutto questo come vi dicevo ha avuto pure avanti ha avuto il suo momento clou con la scuola medica salernitana come dicevo con Trotula dell'Oggero e altre vai pure scorri pure tranquillamente con molte di queste donne straordinarie c'è ancora qualche testo che si può vedere vai pure avanti sono tutte donne straordinarie oppure queste grandi badesse che per le prime hanno offerto un soccorso dentro i loro monasteri e addirittura nelle lingue volgari il medico si declinava femminile pensate dove sono cambiate le cose poi improvvisamente no improvvisamente no arriva il maglio e smalificaroni il martello delle streghe lì non voglio insistere ma dalla fine del 1300 al 1700 ne sono state bruciate tante di streghe ma tante e guarda caso erano quelle che praticavano la medicina una cosa a cui non ho mai pensato per esempio che mentre si bruciavano le steghe c'era il rinascimento forse questa è una cosa a cui dovremmo pensare un po' tutte poi queste sono due prime donne che la Montago in particolare che è quella che ha lavorato con Yenia per il vaiolo ha dovuto travestirsi da uomo per fare il medico quando ha scoperto che era una donna volevano decapitarla ma lì la storia dice che c'era una leggenda d'amore non lo so comunque è così eppure avanti questo invece eppure avanti questo ci tengo a ricordarlo che nel 2018 il Regno Unito ha fatto sette lauree postume a queste donne che si erano laureate centocinquant'anni prima a Edimburgo ma la società maschilista di allora non aveva dato loro la laurea e allora sono state laureate onoris causa secondo me questa è molto bella questa storia dopodiché vai pure avanti rapido ci sono state le donne che conosciamo Montessori la Pulisho vai pure avanti le donne che conosciamo tutte ormai le donne sono la prevalenza oggi si dice sia il 54% anche a livello dirigenziale sono pochissime vai pure avanti vai pure avanti 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 alla fine nel gennaio 2018 è stata fatta questa legge per cui la medicina di genere deve entrare nella formazione nella ricerca e nella pratica clinica vai pure avanti è quasi finito avanti avanti perché queste se volete ve le lascio con tutti i riferimenti vai pure avanti quindi una rivoluzione silenziosa l'ha fatta prevenzione perché mi fermo su questo vai pure avanti perché dopo di me parlano le mediche del lavoro bisogna fare molta attenzione ai temi di cui le donne sono portatrici vai pure avanti ad esempio fumo stili di vita vi ho già detto quello che penso sulle pratiche vaccinali ad esempio il vaccino dell'HPV ci sono state molte resistenze l'acido folico questa è la cosa a cui tengo di più la consapevolezza della propria fertilità attraverso far conoscere come è fatto il corpo della donna come funziona e poi come prevenire le gravidanze indesiderate qui permettetemi di ricordare che domani sono 50 anni che la consulta ha abolito quel terribile articolo del codice rocco che vietava la propaganda e l'acquisto e l'uso dei contraccettivi è una cosa da ricordare perché ha voluto dire tantissimo nella vita delle donne credo che dobbiamo ricordarlo ringraziando quelli della consulta come sempre non in Parlamento perché non ci è arrivato subito diffondere anche la contraccettione di barriera l'uso dei farmaci della donna fertile monitorare l'utilizzo di indagini diagnostiche incentivare la pratica degli scritti sono tutti i temi questi fondamentali vai pure avanti bisogna informare bisogna diffondere questi pensieri per quanto riguarda invece la questione della medicina e del lavoro ma lascio la parola a loro che sono più competenti di me solo una piccola cosa io sono molto legata alla legge sulla tutela della lavoratrice che va modificata non tanto è solo perché una donna possa lavorare di più verso la fine della gravidanza deve poter essere una sua scelta se possibile o quando riprende a lavorare deve poter essere una sua scelta magari condivisa col suo compagno non per sette giorni o quindici giorni perché il periodo dura un po' di più ma soprattutto sono i primi tre mesi lo diranno bene le mie interlocutrici successive quelli che fanno possono ledere possono far male davvero tanto all'embrione al feto ma per quale motivo invece per poter io non ho nessuna remora a mettere le donne in maternità anticipata perché c'è un diritto che va praticato però non vedo perché ci sono donne che lo devono fare perché fanno lavori pesanti perché non ce la fanno più perché sono stressate tutto quello che volete però sono i primi tre mesi bisognerebbe poter riscrivere una legge sulla tutela della maternità direi meglio sulla protezione delle donne che lavorano e desiderano essere madri in cui si fa questo punto di osservazione come stai è una scelta preferisci stare a casa qualche ora qualche giorno secondo me questo è importante perché il corpo femminile ha una sua storia è fatto da un fluire periodico da un tempo ciclico da pieni e vuoti da un tempo della riproduzione a un tempo del fermarsi pensiamo al corpo degli adolescenti che è uno scrigno continuo di esperienze al corpo della donna adulta la sessualità la maternità la sindrome premestuale com'è vissuta male io vi dico il mio direttore di cattedra quando mi stavo facendo la specialità mi disse io preferisco ginecologo preferisco non avere donne perché insomma le donne hanno un mestro e prima del mestro non si concentra nel salo operatorio per dire mi sono bruciata il posto in università rispondendo gli a tono però credo che un po' il tempo è questo quindi anche sul piano del lavoro è chiaro che la sindrome premestuale può contare e poi penso al climaterio e alle donne che lavorano per molto tempo dopo la menopausa il climaterio è un altro equilibrio va vissuto come altro equilibrio va rispettato come altro equilibrio quindi grandissima attenzione a questo fluire del tempo della donna che è un fluire non in divenire permanente non in perdita e ultima che vi ringrazio per avermi ascoltato mi perdonatemi se sono stata un po' lunga l'ultima ce n'è un'ultima o no? ce n'è ancora una? non lo so ecco questa è Tillesium la conoscete tutte è morta in campo di concentramento e nel suo diario scrisse queste righe che a me davvero piacciono molto ma ve le ripropongo perché è il modo in cui vivo nel mio lavoro nel lavoro anche dentro il comune che sto conducendo come delegata alla sanità di notte mentre ero coricata nella mia cucetta pensavo su lasciati essere il cuore pensante di questa baracca ecco io insieme alle donne che mi stanno seguendo in questo percorso e mi stanno aiutando mi stanno dando tanto credo che vorrei continuare a essere il cuore pensante di questa baracca grazie di cuore grazie Donatella adesso spero che Tiziana riesca proprio ad intervenire Antonio mi ha chiamato perché non riusciva a sentire neanche la relazione di Donatella Antonio sì dunque dovrebbe uscire e rientrare in questo modo vediamo che tutto dovrebbe rimettersi a posto perché anch'io non vedo il suo il suo microfono per cui c'è qualcosa che non va nel nessuno la chiamo subito magari sì facciamo intervenire Siria Garattini prima per non perdere sì certo sì allora un attimo che ti dispiace Siria di capovolgere un po' l'ordine ecco Siria Garattini dovrebbe riattivare l'audio posso parlare mi sentite sì prego prego bene allora grazie a tutte il mio intervento sarà su un tema un po' particolare io intervengo sono un medico del lavoro ma non parlerò di medicina del lavoro perché il compito tocca a Tiziana vai infatti questo intervento mi è stato chiesto da parte di medicina democratica in relazione all'esperienza di cui faccio parte ormai dal 2018 delle cittadine e cittadini resistenti al razzismo e al fascismo e ci siamo nominati Rete Restiamo Umani e ci occupiamo appunto di combattere il pregiudizio siamo nati nel 2018 durante il sequestro della 918 appunto e quindi il tema che mi è stato affidato è quello di parlare delle donne migranti e non parlerò specificamente della salute non sono un'esperta di salute delle donne migranti sicuramente Donatella Albini nel consultorio ha avuto molta molta più esperienza di me ma cercherò di fare una fotografia portando più domande che risposte e parlerò quindi della di chi sono le donne straniere in Italia cercherò di fare un focus sull'esperienza sulla triste esperienza degli infortuni sul lavoro da covid e infine parlerò delle donne richiedenti protezione internazionale sono tematiche abbastanza diverse fra di loro allora molto importante e scusatemi se dirò molti numeri ma credo che sia utile per definire quello che è il tema di cui stiamo parlando nel primo al primo gennaio 2020 le donne straniere in Italia sono erano 2 milioni e 235 mila per la prima volta le donne sono il numero maggiore degli uomini costituiscono quindi il 52% degli stranieri presenti in Italia con una storia che nei primi vent'anni di immigrazione in Italia vedeva prevalentemente la presenza di uomini ma dal 2005 in poi le donne sono diventate una presenza sempre più importante sia per il tema dei ricongiungimenti familiari sia per l'allargamento delle frontiere l'apertura delle frontiere per le lavoratrici dell'est e benché il 66% dei permessi di soggiorno venga tuttora rilasciato per i fini del ricongiuggimento familiare c'è anche un 10% di donne che entrano in Italia per motivi di studio e un altrettanto 10% che sono presenti in Italia per motivi umanitari la comunità maggiormente presente di donne è quella rumena seguita dalle donne albanesi e le donne provenienti dal Marocco rispetto alle comunità straniere presenti in Italia la comunità ucraina rappresenta la percentuale di donne più elevata mentre se prendiamo le comunità provenienti i gruppi nazionali provenienti dall'Asia o dall'Africa le donne costituiscono una percentuale minore con un 30% di donne nella comunità pakistana e un 25% nella comunità senegalese un dato secondo me molto interessante è che la metà delle donne straniere presenti in Italia sono coniugate ma ben il 13% sono divorziate e un dato che io ho trovato molto che mi ha un po' stupito è che vi è una percentuale molto molto elevata di donne oggi di donne che arrivano in Italia e sono nubili perché evidentemente il progetto migratorio per loro non ruota più intorno alla famiglia ma rispetto a un loro progetto di vita è interessante sapere anche che due donne su tre delle donne immigrate in Italia hanno un titolo di studio di scuola superiore e una su cinque una laurea i mestieri i settori lavorativi dove sono occupate le donne straniere sono per il 33% occupate nel lavoro domestico un 16% nella ristorazione nel settore alberghiero e un 10% però nelle professioni intellettuali quello che però vorrei sottolineare è che rispetto alle donne italiane le donne straniere costituiscono una percentuale molto ampia nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni di persone che ne studiano ne lavorano e a fronte invece di una percentuale il 44% delle donne straniere in quella fascia di età giovanile non lavora e non studia a fronte del 23% delle donne italiane questo ci porta a riflettere sul problema per esempio dell'apprendimento della lingua e della conoscenza del contesto sociale nonché della dipendenza nei confronti della famiglia anche e del coniuge in particolare nell'accesso alle informazioni sanitarie ai documenti e alle attività sociali in generale una questione che volevo presentare è quella della religione il 28% sono cattoliche il 22% sono donne ortodosse le donne musulmane costituiscono il 27% la questione religiosa per le donne diventa può diventare un elemento di discriminazione ulteriore e faccio riferimento in particolare alla questione del velo che si incardina sulla difficoltà maggiore delle donne straniere musulmane all'inserimento lavorativo vorrei fare poi un altro accenno perché credo che tutti questi elementi siano importanti per disegnare quali sono gli aspetti di salute e in particolare la questione della violenza della violenza di genere il 31% delle donne straniere presenti in Italia dichiara di aver subito nell'arco della propria vita violenza fisica o sessuale questa è la stessa percentuale delle donne italiane vi è una strana omogeneità rispetto alla violenza di genere a differenza però delle donne italiane le donne straniere denunciano di più fanno denunciano di più e fanno maggiormente accesso richiesta di supporto ai servizi dedicati alle donne che hanno subito violenza uno sguardo adesso sulla questione più strettamente lavorativa volevo portarvi alcune osservazioni sull'andamento degli infortuni da covid-19 ovviamente non abbiamo studi approfonditi siamo ancora all'interno completamente di questa pandemia ma ci sono delle osservazioni che io ritengo importanti per capire il mondo di oggi la realtà nella quale viviamo e con che cosa andiamo quotidianamente a confrontarci e anche il ruolo che hanno sempre più forte le donne straniere che abbiamo visto estremamente impegnate nel settore dell'assistenza dell'assistenza sia sanitaria che sociosanitaria che e che quindi sono state colpite a loro volta pesantemente dagli effetti della pandemia vorrei ricordare che ad oggi al 31 gennaio 2021 dall'inizio della pandemia sono stati denunciati 147 mila infortuni sul lavoro da covid-19 e di questo numero elevatissimo ben il 70% sono donne sono donne che lavorano prevalentemente come dicevo nel settore sanitario e sociosanitario riguardo alla provenienza di questi lavoratori l'80% sono italiani ma circa il 15% sono lavoratori stranieri e di questi 8 su 10 sono donne donne che lavorano appunto nei settori che dicevo prima i dati a livello di Lombardia abbiamo avuto al 31 gennaio del 2021 40 mila infortuni da covid di questi il 72% sono donne sono donne e un ultimo l'ultimo punto che volevo sviluppare è quello che riguarda il tema delle donne migranti rifugiate richiedenti asilo più correttamente dovremmo definire persone richiedenti protezione internazionale la storia delle delle donne richiedenti asilo è un po' diversa dalla storia degli uomini e porta con sé un portato di violenza che se è possibile anche peggiore di quello del genere maschile innanzitutto quella che è la causa il motivo per cui che porta le donne a migrare forzatamente dal proprio paese d'origine dove per gli uomini vi sono motivi come la guerra come la fame i cambiamenti climatici quando parliamo di donne richiedenti asilo il motivo per cui molte di esse decidono di lasciare forzatamente il proprio paese è da ricondurre a storie di violenza sessuale le mutilazioni genitali e i matrimoni forzati le comunità straniere maggiormente rappresentate tra le donne richiedenti asilo sono le donne eritree che costituiscono il 26% le donne nigeriane il 25% e le donne somale il 23% due sono i focus che vorrei portare alla vostra attenzione il tema delle violenze legate al viaggio e il sistema della tratta degli esseri umani che interessa prevalentemente le donne e in piccola parte anche i minori durante il viaggio le donne subiscono ogni forma di violenza e questo è documentato ampiamente sia nelle in moltissime ricerche e anche indagini che ormai sono state pubblicate in tutti questi anni violenze sia da parte dei trafficanti da parte dei guardiani da parte dei compagni di viaggio un evento che viene descritto dalle donne che attraversano che attraversano il Sahara sui pick up che i i trafficanti di esseri umani dividono in gruppi queste persone e su ogni pick up deve esserci una donna preferibilmente giovane perché questa donna sarà a disposizione del passeur per tutto il tempo del viaggio e questo ha completa consapevolezza anche dei compagni di viaggio senza dire quello che succede nei lager libici dove gli uomini subiscono terribili violenze ma quelle delle donne sono difficili anche da raccontare volevo anche sul tema della salute ricordare che queste donne sono spesso consapevoli di cosa vanno incontro e si proteggono con trattamenti ormonali estremamente pesanti per evitare le gravidanze e quando però queste gravidanze spesso effetto della violenza in realtà si presentano sui social siamo costretti a leggere delle espressioni terribili nei confronti di queste donne come se fossero delle superficiali incoscienti perché si mettono in viaggio mentre sono gravide quando invece appunto spesso queste gravidanze sono l'effetto di quanto vi ho appena descritto la questione della tratta è una questione estremamente delicata estremamente delicata perché pur godendo le donne soggette che oggetto di tratta pur godendo di un regime di protezione speciale le vittime di tratta molto spesso non denunciano la loro condizione restando così purtroppo anche legate e in balia dei loro padroni il sistema stesso di accoglienza si trova un po' impreparato e un po' gestisce anche con riserva e questo riserva lo metto tra virgolette le comunità femminili proprio perché è nota è noto il rischio di ingerenza e di contiguità con la criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani ho trovato preparando questo intervento e mi dirigo rapidamente verso la fine ma su questioni estremamente delicate un documento che si chiama rapporto 2020 sulla tratta di esseri umani redatto dall'ufficio per il monitoraggio e il contrasto della tratta di esseri umani sul sito dell'ambasciata e consolati USA in Italia questo rapporto si esprime in questi termini le autorità italiane non soddisfano appieno i criteri minimi per lo sradicamento della tratta di esseri umani ma stanno facendo importanti sforzi in tal senso il governo ha continuato a non avere un piano d'azione nazionale e non ha applicato in modo coerente il meccanismo nazionale per l'identificazione e l'assegnazione delle vittime ai servizi di assistenza due numeri per definire questa questo componente importante delle migrazioni delle donne le organizzazioni non governative dati contenuti nel rapporto che vi ho citato hanno assistito nel 2018 1877 vittime di tratta di queste il 50% era costituito da vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale il 83% sono donne donne prevalentemente di origine nigeriana esiste però un altro mercato di esseri umani che è rappresentato dalle donne cinesi che vengono trasferite in Italia a scopo di sfruttamento sessuale finisco il mio intervento perché quello che vi dicevo in premessa di questa parte del mio intervento viene ai meri barri all'interno di questo report dove appunto si richiama l'attenzione sulle strutture italiane destinate ad ospitare i richiedenti asilo non hanno la capacità di proteggere in maniera adeguata le donne vittime di tratta in conclusione a questo mio intervento una brevissima riflessione ho detto delle cose nel mio intervento che lasciano tanti punti di domanda tante cose non sappiamo non sappiamo quali utilizzare Donatello ci ha chiarito bene come la medicina di genere è imprescindibile quando vogliamo parlare di salute e io ho aggiunto un elemento di complessità perché la domanda che vi faccio e che ci dobbiamo assolutamente porre è come possiamo ripensare l'idea di salute alla luce di queste informazioni che ho portato alla vostra attenzione vi ringrazio ti ringrazio ti ringraziamo molto Siria abbiamo preso nota e non so se tu hai scritto qualcosa se ce lo vuoi mandare ci fai un ulteriore regalo grazie va bene ve lo mando grazie grazie mille adesso potrebbe intervenire Tiziana Tiziana ci sei? io io ci sono voi mi sentite? sì non ci posso credere ce l'abbiamo fatta io guarda io sono invece la vittima dell'informatica perché sono nel panico sono qua con un telefono due computer le cose più varie ma finalmente pare che ce l'abbiamo fatta il pezzo che invece mi compete è un po' più grigio diciamo perché riguarda proprio la nostra esperienza quotidiana del rapporto tra donne salute e lavoro e mi dispiace tra l'altro che sono talmente bollita che io ieri sera ho mandato le slide che avevo invece corretto togliendo questo sfondo mettendo uno sfondo più sobrio però insomma ve le beccate così e poi semmai ve le rimando corrette il mio intervento è legato soprattutto all'esperienza del gruppo donne salute e lavoro di CGL Cisleville perché in realtà pur essendo un tema tipico di un operatore che fa controlli nei luoghi di lavoro in realtà la condizione del lavoro femminile non è mai stata molto all'oggetto di attenzione dei servizi pubblici di prevenzione ciò nonostante anzi malgrado il testo unico che molti di voi avranno già conosciuto già avvicinato il testo unico su salute e sicurezza sul lavoro lo mette come una delle principali finalità cioè al titolo uno all'articolo uno quindi proprio nella nelle premesse basilari dice che questo testo unico riassume tutta la normativa di salute e sicurezza sul lavoro ha come obiettivo un riassetto per garantire tutela ma alla fine dice anche per rispettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali anche con riguardo alle differenze di genere non dice solo di genere dice anche di età alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati e queste sono delle caratteristiche soggettive e quindi pone l'attenzione sul fatto che le caratteristiche soggettive devono entrare nel punto di osservazione di chi gestisce i rischi sul lavoro allora la prima questione è proviamo a non farne una questione di protezione delle foche monache non è un obbligo etico non è una risposta formale è che bisogna davvero capire in modo sostanziale se un rischio si comporta diversamente a seconda del genere ma anche a seconda dell'età a seconda della provenienza cioè a seconda di caratteristiche soggettive perché se non si valuta questo tutte le soluzioni che vengono adottate saranno inappropriate e quindi saranno non risolveranno il problema questo era il tema di fondo che ha sollecitato il gruppo donne a prendere in considerazione questo tema perché l'esperienza cosa ci dice ci dice con la prossima che la parte il passaggio più grosso da fare è quello di superare la cultura della neutralità che invece è quella che permea tutto il mondo della salute e sicurezza sul lavoro cioè il rischio la valutazione dei rischi persino i valori limite tutti i parametri di riferimento sono riferiti a uno standard a una figura media come se fosse una specie di omino gonfiabile di manichino che però ha guarda caso delle caratteristiche molto da uomo giovane e forte e in buona salute e quindi questo approccio neutro è un ulteriore limite alla possibilità di valutare e di considerare i rischi in modo rispettoso delle caratteristiche soggettive questo non lo diciamo solo non dice solo il gruppo donne salute e lavoro lo dice persino l'INAIL che voglio dire vuol dire che proprio è una cosa di una ovvietà quasi infinita cosa ci dice l'esperienza ci sono quattro punti che noi volevamo da cui siamo partiti e cioè c'è una questione di genere c'è una questione di genere nel mondo del lavoro che riguarda salute e genere sì c'è una salute c'è un tema di salute perché uomini e donne anche facendo anche avendo la stessa mansione possono essere esposti a rischi diversi perché fanno compiti diversi il tipico esempio che noi facciamo quando facciamo le nostre chiacchierate con gli RLS con i rappresentanti dei lavoratori è addetti alla produzione dolciaria tutti uguali stessa mansione però gli uomini vengono messi ai forni o ai mescolatori le donne al confezionamento e quindi c'è una mansione che apparentemente è analoga nella realtà invece sono esposti a rischi diversi oppure un'altra delle condizioni possibili è che esposti allo stesso rischio quindi tutti stanno allo stesso alla stessa mansione ma rispondono in maniera diversa a un'esposizione professionale e ultimo aspetto è che ci sono poi dei ruoli sociali che danno delle esposizioni cumulative di peso molto diverso tipicamente il lavoro di cura è un lavoro che dà un sovraccarico biomeccanico aggiuntivo alla donna che è anche stato stimato in termini di ore in termini di carico biomeccanico il secondo problema concettuale sul quale bisogna fare ribaltare una situazione è distinguiamo dammi la prossima c'è un problema di generalizzare e quindi di usare con lo stesso come fossero identici genere e sesso questo in che cosa si traduce che si semplifica tutto e si riduce puri aspetti biologici i pochi aspetti biologici tutte le azioni di prevenzione tipicamente nella valutazione dei rischi l'unica cosa di cui si tiene considerazione è la gravidanza e quindi si riduce tutto a un aspetto biologico molto particolare molto diciamo circoscritto temporalmente invece la norma dice di tener conto del genere che è un costrutto molto più complesso un costrutto di di caratteristiche sociali di interazioni culturali di comportamenti anche di valori che caratterizzano invece aspetti molto più complicati della presenza femminile nel lavoro non sono aspetti che possono essere intescambiabili ci accontenteremmo anche di avere di vedere che vengano considerati separatamente e con uguale attenzione vi faccio solo un esempio perché forse è un esempio che è sotto gli occhi di tutti in questo momento l'attività di accudimento familiare con lo smart working con la didattica a distanza eccetera crea un carico psicologico di isolamento che è tipico un fatto di genere perché non ha niente di biologico il fatto di stare a casa a seguire i figli che studiano non ha proprio niente di non c'è una differenza biologica è che viene culturalmente affidato alla madre in genere questo tipo di questo tipo di carico e questo crea ovviamente una differenza di genere che non può essere confusa con la mera differenza biologica al numero tre che è la prossima c'è un tema di metodo e cioè noi oggi gli strumenti che abbiamo per valutare le differenze misurare l'impatto che hanno i fattori i fattori di esposizione non tengono conto del genere cioè non c'è un'ottica di genere nel valutare i rischi e infine alla quattro il metodo deve invece cogliere delle differenze biologiche per cui dobbiamo avere strumenti per capire i rischi nei rischi lavorativi ambientali organizzativi quali diverse suscettibilità ci sono e quali effetti diversi sulla salute ma anche per esempio quali diverse capacità quindi quindi capacità di stare sul lavoro come formazione e come aggiornamento professionale che in genere ha un accesso molto diverso a seconda del genere alcuni aspetti già li conosciamo perché la medicina di genere ma anche la valutazione dei rischi ci ha permesso e la prossima ci ha permesso di conoscere quali sono alcuni determinanti biologici che differenziano la suscettibilità di genere ma per esempio quella più ovvia è la diversa statura le masse muscolari ma anche i volumi polmonari che sono maggiori nell'uomo rispetto alla donna creando anche una diversa capacità di sopportare lo sforzo fisico dammi la prossima perché qua io poi questa è la medicina di genere che ci dice anche che c'è una diversa suscettibilità ad alcune patologie croniche o degenerative o anche acute quindi c'è una diversa sensibilità di base anche di tipo biologico come gruppo abbiamo tentato anche di raccogliendo da tutto quello che stava circolando sulla medicina di genere ma anche sulla valutazione dei rischi tenendo conto del genere una tabella che trovate nelle due successive slide dove abbiamo cercato di mettere quali sono i determinanti i fattori di rischio quali sono i determinanti biologici che danno una diversa suscettibilità nel genere femminile rispetto a quello maschile ma anche quali sono esempi di miglioramento tra quelli più importanti ovviamente c'è una diversa resistenza alla fatica fisica che però guarda caso per alcuni tipi di lavorazioni riguarda ancora prevalentemente il genere femminile se pensiamo agli operatori sociosanitari dell'RSA fanno probabilmente il lavoro più pesante in termini di carico biomeccanico che oggi possiamo conoscere sul mercato eppure è un lavoro a larghissima prevalenza femminile quindi malgrado sia nota una diversa resistenza allo sforzo fisico il ding-dong vuol dire che ho un tempo limitato va bene io accelero no no significa solo che è entrata un'altra persona ah perfetto non sapevo se dovevo accelerare leggere tutto velocissima allora in queste tabelle trovate anche degli aspetti molto molto interessanti e c'è una diversa suscettibilità per esempio ai movimenti ripetitivi e alle posture incongrue per cui a parità di attività per una donna è più facile avere dei danni legati a un'esposizione per esempio a movimenti ripetitivi in quella successiva c'è per esempio anche una diversa sensibilità al microclima una capacità di termoregolazione che è un po' diversa e quindi c'è una maggiore suscettibilità e questa ovviamente è un fattore di rischio un fattore ambientale che se valorizzato e tenuto in considerazione è molto facile da risolvere basta dare una grammatura diversa nei dispositivi di protezione personale quindi anche le soluzioni a volte non sono così complesse basta solo avere una sensibilità nel valutare i rischi tenendo conto del genere ecco uno invece dei fattori di rischio che in genere viene considerata sono le sostanze chimiche proprio perché sono più facilmente connesse con una suscettibilità una diversità biologica e c'è un diverso assetto ormonale che caratterizza i generi di cui in genere si tiene conto sotto trovate anche la bibliografia dalla quale abbiamo estratto queste queste caratteristiche in quella successiva c'è un secondo una seconda uno secondo stimolo che è il secondo passaggio culturale che è necessario affrontare uno è superare la neutralità di genere se vi ricordate il secondo è superare l'approccio tecnicistico e cioè cominciare a rivalutare la soggettività utilizzando anche degli indicatori che non sono quelli tipicamente utilizzati per fare la valutazione dei rischi per chi non 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 è diciamo in confidenza con il tema della valutazione dei rischi oggi gli strumenti che abbiamo sono degli strumenti molto meccanici come se avessimo delle bilance che pesano oggettivamente un rischio e trascurano totalmente chi lo sta subendo ecco invece va ribaltata questa logica per cui superare questa questa modalità di valutare i rischi solo con criteri di metri grammi gradi ma come si sta e come si percepisce un rischio è una cosa che è necessaria se si vogliono se si vuole tener conto anche di determinanti di salute che sono di genere quindi socio-economici psicofisici e non solo biologici o meccanici non so se facciamo a tempo io ve l'accenno solo noi abbiamo provato anche con le prossime a consultare cioè a dire proviamo a dare voce alle donne per capire come dare come provare a modificare la valutazione dei rischi cioè qual è il metodo per dare voce alle donne nel valutare i rischi sul lavoro e l'abbiamo fatto con una serie di focus group che vedete nella prossima dove abbiamo lavorato con gruppi di confronto della sanità della sanità operatrici della grande distribuzione dell'industria banca e credito e anche studenti quindi giovani in formazione abbiamo cercato di affrontare il tema su cinque aree e cioè come vengono percepiti i rischi che considerazione c'è della salute nella propria realtà lavorativa che considerazione c'è dei rischi come è svolta la formazione e l'informazione come viene svolto il processo di valutazione dei rischi e quali sono le proposte per migliorare questa condizione della valutazione io vi riassumo solo quelle che sono state nelle successive l'esperienza che ne è emersa le prime evidenze le delegate e le rappresentanti dei lavoratori ci hanno hanno enfatizzato alcuni aspetti e cioè che il grande determinante il grandissimo contenitore che genera insicurezza e mancanza di salute è il modello organizzativo che ha delle tipicità per settore produttivo ed è il più grande determinante che conduce al disagio al malessere fino al danno fisico sono venute fuori delle cose molto molto interessanti per cui il settore bancario per esempio è un settore dove l'alesività è creata con una concorrenza interna spietata nella sanità per esempio è la burocrazia e la gerarchia burocratica quindi sono venuti fuori degli aspetti di tipo sociologico molto interessanti ma la cosa più importante che le donne hanno segnalato e che occorre tenere in considerazione in valutare i rischi è la possibilità di espressione professionale cioè di poter realizzare il proprio lavoro esprimendosi professionalmente la possibilità di utilizzare il tempo in modo rispettoso lo sforzo e la fatica fisica e una maggiore considerazione dell'invecchiamento e delle risorse che affievoliscono io salterei le prossime perché tanto ve le lascio e quindi sono materiale anzi ce n'è anche di più ampio di materiale volevo solo vai alla prossima ancora alla prossima ancora questa è una specie di ragionamento finale quella prima è una specie di ragionamento finale che ci dice come si può fare a valutare i rischi la prima cosa da fare è verificare se ci sono compiti maschili e compiti femminili cioè se all'interno della stessa mansione c'è una selezione per compiti se c'è una differenziazione per cui alle donne vengono fatti fare i fiocchi dei panettoni e agli uomini invece vengono fatti condurre i forni vanno fatte due valutazioni distinte non si può omologare come unica mansione quella di addetto dolciario se invece ci sono mansioni maschili e mansioni femminili quindi se c'è una diversa esposizione per genere allora la valutazione va differenziata proprio per attività maschili e attività femminili questo non si riesce a leggere fino in fondo lo schema ma questo lavoro è stato anche io ve l'ho sintetizzato in modo probabilmente molto incomprensibile ed è molto più comprensibile perché quando viene ripreso dall'agenzia europea che dice cercate di identificare se le mansioni sono prevalentemente maschili o prevalentemente femminili e chiedere alle donne e agli uomini che le realizzano che problemi incontrano sul lavoro evitare la banalizzazione di considerare un lavoratore neutro ma cercare sempre di comprendere se ci sono differenziazioni per genere proprio nei compiti che vengono affidati non trascurare mai gli aspetti più legati al tempo di lavoro quindi lavoratori con contratti particolari o con tempi di lavoro part time con congedi particolari e raccogliere la soggettività perché questi sono gli unici elementi che possono condurre a una rispettosa valutazione tenendo conto del genere e vi ringrazio grazie molto Tiziana è tutto registrato quindi le slide li abbiamo e anche auguri per continuare questo lavoro proprio sulla salute della donna di non mollare adesso potrebbe intervenire Andrea Micheli epidemiologo perché è stato suscitato a ragionare anche lui sulla diversità in termini di età salute tra maschi e femmine a te Andrea grazie microfono ok sì io ho scissato il microfono ma Antonio aspetto le diapositive intanto vi saluto e vi ringrazio mi sento un po' un po' un ospite in questa vostra rappresentazione molto interessante io praticamente semplicemente volevo mandare un paio di diapositive poi Elisabeth di fatto mi ha invitato a una presentazione dunque il tema per il quale mi sono sentito chiamato in causa era legato al fatto che nella precedente iniziativa di medicina democratica c'è stato chi è interpellato in merito alla possibilità e la capacità delle donne di rispondere meglio al virus allora su questa tematica vorrei farvi vedere alcune osservazioni per proporre la vostra riflessione la prima grazie allora questa è la speranza di vita della nascita in Italia il tratto azzurro sono le donne il tratto più scuro sono gli uomini si parte dalla fine dell'ottocento e arriviamo praticamente nei primi decenni del 2000 che cosa vediamo qua vediamo che ecco poi vedete se voi guardate c'è un tratto sotto che mostra il differenziale di speranza di vita tra maschi e femmine che si modifica nel corso di questo lungo periodo osservazione è possibile la registrazione del webinar si ha già dato di sì sulla sulla ordinata di destra si vede il numero di anni di differenza che esiste la speranza di vita e sull'ordinata sinistra si vede la speranza di vita cosa si osserva insomma praticamente fino al 900 si viveva sui 40 anni ma uomini e donne le avevano più o meno uguali questa prima caduta impressionante che vedete è la prima guerra mondiale la seconda caduta la seconda guerra mondiale ma è interessante notare come allora voi sapete la prima guerra mondiale a grande guerra milioni di morti milioni di persone mandate a morire nelle trincee uno potrebbe aspettarsi che ci fosse una maggiore caduta maschile in realtà questo succede anche il fatto che la prima l'ultima grande epidemia europea che conosciamo che è contro praticamente questa questa caduta di speranza di vita che praticamente come vedete passa intorno al 40 35 anni nel prima della guerra durante la guerra cade a 30 anni di speranza di vita la nasa una cosa incredibile e terribile che coinvolge poi la seconda caduta descrive quello che succede nella seconda guerra mondiale se voi vedete da quel momento in poi le speranze di vita degli uomini e delle donne si differenziano fino a raggiungere differenze importanti nell'ordine di 6 7 anni speranza di vita allora uno potrebbe ragionare ma cosa è successo come mai è successo questo fenomeno e guardate che guardando questa vicenda nel confronto per esempio europeo ci si accorge che noi eravamo tra le nazioni con la più alto differenziale tra uomini e donne nel corso degli anni diciamo il secondo dopoguerra io ho l'impressione che questo abbia a che fare con il fatto che questo è il lungo periodo attraverso il quale sono gli uomini che vanno nelle fabbriche e insomma ha proprio idea che il lavoro faccia male alla salute e poi diciamo negli ultimi anni questo differenziale si sta riducendo analogamente a quello che succede e si vede per esempio nei paesi del nord Europa e la prossima va bene qui praticamente il modo sintetico è molto molto frettoloso rispetto agli interventi precedenti comunque quello che affrontiamo rispetto al vantaggio femminile se esiste un vantaggio culturale dove per culturale qui intendo proprio la visione di antropologia culturale quindi che scomprenda i rapporti tra le classi la sociologia le condizioni di vita eccetera tutto ciò che appunto non è biologico dall'altra parte è biologico cioè se esiste se esiste una capacità delle donne ha una maggiore resistenza o meno nell'affrontare le patologie la prossima allora questo è quello che sappiamo per ora per quanto riguarda la pandemia attuale il è un articolo l'ho tratto questo è un articolo presentato su tecnologia prevenzione qualche mese fa dalla Azzolina lei è una dottoressa che insieme ad altri ci hanno mandato questo lavoro e vediamo gli eccessi in mortalità nel 2020 verso i cinque anni precedenti in Italia negli uomini e nelle donne valutando il periodo dall'1-3 al 34 quindi due mesi in questi due mesi abbiamo avuto 71.000 morti negli uomini e 73.700 negli uomini in termini di tasso standardizzato praticamente molto simile 260 per 100.000 254 per 100.000 se noi guardiamo il rischio relativo cioè quindi il rischio il cesso di rischio se c'è stato tra i 2020 rispetto al quinquennio precedente troviamo 1,4 che vuol dire che un 40% di eccesso negli uomini c'è stato quindi praticamente cominciavamo a descrivere l'eccesso di mortalità che c'è stata a causa della pandemia nelle donne era un 30% ma se noi confrontiamo aggiustando per età uomini verso donne in realtà c'è nessun differenza per cui quell'impressione che si è stata discussa e stata presentata attraverso il quale ci sarebbe stata la maggiore capacità delle donne nel complesso della popolazione non c'è stata c'è stata invece guardando il sottogruppo delle popolazioni dove più alta è la mortalità in generale cioè il gruppo delle persone sopra i 65 anni in questo caso come vedete il tasso è 1128,6 per gli uomini contro 948,8 per le donne quindi da un 1100 rispetto al 950 questo è il rapporto il che vuol dire in entrambi i gruppi c'è stato un 40% 1,4 1,4 un 40% in più di eccesso di rischio e se però riportato guardando il rapporto tra uomini e donne c'è un 20% in più di rischio dei uomini rispetto ai donne per cui quella informazione che è stata distribuita nei giornali eccetera di un possibile vantaggio femminile durante la pandemia dai dati che qua sono stati pubblicati sembrano confinate all'area delle persone più avanti negli anni mentre globalmente questa diapositiva ci dice che non c'è stato un vantaggio allora sempre sul tema del vantaggio di genere insomma tra uomini e donne la discussione mi ha richiamato un lavoro che io ho fatto tanti anni fa a prossimo allora mi è capitato anni fa io sono epidemiologo in ambito oncologico e lavoravo per lo studio Eurocare 4 dove si analizzava la sopravvivenza per tumore in tutta l'Europa e quindi disponevamo di un dataset enorme io in quell'occasione lavorai sulle differenze di rischio di morire per tumore confrontando i dati degli uomini e delle donne è stato pubblicato sul primo giorno del cancer nel 2009 questo lavoro allora disponevamo di dataset enormi per cui anche se il lavoro non è recente forse è importante richiamarlo tra le norme vastità di dati sui quali era stato affrontato l'analisi comprensivamente sono stati analizzati un milione e seicentomila il 60% era uomo il 40% le donne però non guardiamo questa quantità perché ovviamente sono stati estratti da questa analisi tutte le patologie specificamente di sesso in particolare per esempio nelle donne mancano tutti i dati del tumore della mammella dove esiste anche un tumore maschile della mammella ma è così raro per cui decidiamo di non includerlo nei dati l'obiettivo dello studio era proprio indagare se ci fosse la migliore capacità delle donne nel rispondere alla malattia rispetto al uomo allora le affrontiamo riga per riga a tabella che forse non è semplice comunque nella prima riga che guardiamo è un'analisi dove è stata valutata la sopravvivenza relativa per l'insieme dei casi è aggiustata per età a 5 anni dalla diagnosi cioè guardando le percentuali a 5 anni della diagnosi in Europa mediamente il 38,4% era vivo negli uomini e il 40,6% negli uomini e qui si osserva su dati di questa natura un vantaggio da parte femminile cioè guardiamo però l'osservazione selezionando l'età alla diagnosi per cui nel dato successivo vediamo le persone tra 15 e 44 anni quindi il differenziale un percentuale di sopravvivenza 35 anni diventa 43 per gli uomini e 47 per gli uomini nell'età più avanzate invece diciamo qua il gruppo 65-74 anni diventano 33,7 35,8 quindi praticamente si osserva che al crescere dell'età questo vantaggio che è visibile nell'età più giovani si riduce allora a quel tempo pensiamo di poter fare un'analisi che ragionasse separando le donne nel periodo fertile e nel periodo non fertile l'analisi successiva affronta questo tema con un tipo di parametro diverso invece di guardare la sopravvivenza guardiamo il rischio relativo di morte è la stessa osservazione vista dal punto di vista della morte piuttosto della sopravvivenza allora se noi guardiamo donne verso uomini da tutte le età fatto 1 100 praticamente gli uomini le donne hanno un rischio di morte 0,95 cioè un vantaggio del 5% globalmente tenendo conto praticamente dello stesso tipo perché è stata l'analisi che teneva conto del fatto del differenziale che poteva esserci nella numerosità e diverse patologie oncologiche per cui c'è un vantaggio del globalmente del 5% ma volevo farvi notare questa osservazione se noi guardiamo il gruppo di persone che si erano ammalate tra 15 e 44 anni il vantaggio diventa ancora più grande 0,85 il che vuol dire un 15% di vantaggio questo vantaggio andava a ridursi al crescere dell'età io ho portato l'età 55-99 e rimaneva solo il 3% 0,97 come ha detto qua per cui globalmente si osserva che c'è un vantaggio 0,95 del 5% ma se lo si analizza per età si va a osservare come questo vantaggio questa maggiore capacità femminile di rischio della malattia è relativa all'età fertile allora io scrissi a loro discutendo di questo risultato che mi pareva che si potesse leggere questo risultato come il fatto che la nostra specie dia alle donne una maggiore capacità e forza di rispondere a un'aggressione che potrebbe essere quella di un cancerogeno in particolare nell'età fertile e quindi è come se fosse un vantaggio di specie questa vabbè è un'osservazione che ci veniva dall'analgo di questi dati io spero che sia utile per le vostre riflessioni grazie 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 Andrea è vero che sono le donne che mandano avanti l'umanità quindi teniamoci questo vantaggio cerchiamo di creare condizioni di vita per favorire anche il fare bambini fare più bambini una società più resiliente in questo senso abbiamo ancora un dieci minuti se ci sono delle domande è proprio l'ora di farle non so Antonio cosa devono fare è già della manina o guardando guardando la situazione credo che dovremmo essere abbastanza sicuri se c'è qualcuno che è entrato prima e ha sentito tutto almeno e vuole rovinarci alla fine almeno ha sentito queste bellissime relazioni e credo che sia importante anche questo elemento per cui adesso la cosa aperta chi vuole intervenire può accendere il suo microfono oppure scriversi sulla chat in modo tale da diciamo appunto definire chi far intervenire prima o dopo prego sì ho sollevato la mano sì sì prego sì Carmina sei tu sì sono io sì sono buonasera volevo veramente ringraziare ma di cuore perché queste relazioni sono bellissime per la prima volta ho sentito sceverare tutta la tematica che riguarda la medicina di genere in maniera veramente ampia compiuta anche l'ultima che ci ha fatto vedere come per l'appunto le donne alla fine reagiscono meglio per diverse ragioni o comunque mantengono una maggiore come dire sopravvivenza rispetto alle malattie ho sentito delle cose veramente notevoli al di là del fatto che sono la vostra detta stampa mi occupo mi sono occupata come giornalista come così partecipante attivista di associazioni organizzazioni femminili sono presidente di un'associazione di donne per esempio appunto dalla metà diciamo del verso il 2007 2008 2006 2007 2008 ho cominciato ad occuparmi di medicina di genere io volevo porre una questione due questioni e rispetto a tutto quello che è già stato impostato che è già stato fatto mi chiedo la modifica profonda che c'è stata che penso in qualche modo resterà o che comunque bisognerà affrontare che c'è stata nel modo di lavorare proprio nell'anno della pandemia e che ha costretto tutti e in particolare le donne a modificare i propri comportamenti lo dico per me che sto trascorrendo le mie giornate davanti al pc lo facevo anche prima per il mio lavoro giornalistico adesso tutto si è complicato perché qualsiasi attività che sia possibile perché alcune no alcune non si possono fare qualsiasi attività passa attraverso lo schermo anche adesso da un lato è un vantaggio eccezionale che ci consente di raccordarci di incontrarci senza dover prendere l'aereo o il treno dall'altro però sta diventando qualcosa di non dico di soffocante ma di onnipresente di catturante il nostro corpo si sta modificando cioè il trascorrere tutto questo tempo concentrati peraltro perché occorre una grande concentrazione davanti al pc che cosa comporterà anche prima c'era il lavoro che si sviluppava sostanzialmente attraverso un pc ma adesso è diventato senza regole a qualsiasi ora si finisce tardissimo se si hanno più attività si comincia la mattina si finisce la notte questo è un aspetto e poi la pandemia è un tema che ho posto qualche altra volta ha messo in luce credo ancora una volta le differenze biologiche fisiologiche fra uomini e donne cioè fra i due sessi credo di non sbagliare nel dire che la mortalità e la morbidità da un lato e la mortalità dall'altro siano state più pesanti per gli uomini non ho i numeri vado per per aver orecchiato per aver letto credo persino che fra i medici che ahimè hanno lasciato la vita nell'adempimento del loro lavoro oltre 300 non ricordo più la stragrande maggioranza fossero uomini mi chiedo se non sia necessario porre questa questione cioè che cosa ha reso le donne o rende le donne più resistenti rispetto a questo particolare morbo rispetto a questo particolare virus non sarà il caso di sfruttare questa maledizione che ci è capitata addosso per andare a verificare quali meccanismi il DNA gli ormoni o quali meccanismi hanno tutelato la donna uso questo termine venuto in mente questo rispetto al virus e che non sia questa l'occasione per andare a scoprire qualche altra cosa rispetto a tutto quello che già la medicina di genere per quanto recente la medicina di genere e la farmacologia di genere per quanto recente ha messo in luce torno un attimo alle alla diversa reattività delle donne rispetto al lavoro è un tema sconfinato e ringrazio veramente chi di voi l'ha affrontato è un tema sconfinato su cui bisogna tornare andando a vedere queste nuove traiettorie che così in maniera molto affannosa e confusa ho posto aggiungerei anche che questa nuova condizione del lavoro che ha visto le donne più presenti dentro casa anzi schiaffate dentro casa compresse fra il lavoro che passa attraverso il computer e tutto il peso del carico familiare che comunque anche durante il lockdown anche durante tutti questi mesi è gravato soprattutto sulle donne tutto questo quanto ha inciso e inciderà sulla salute delle donne e come bisogna attrezzarsi per far sì che non ci siano effetti collaterali o che ci siano delle strategie delle scappatoie per impedire che tutto questo pesi in maniera drammatica sulla salute delle donne mi fermo qua perché ripeto quando ho sentito nominare Trottula di Ruggero mi si è allargato il cuore perché io non la conoscevo e l'ho conosciuta grazie alle amiche alle mediche alle farmacologhe che me ne hanno parlato in questi anni e che rappresenta davvero è un mito è una figura reale se è lei quella che ha scritto il primo trattato di ginecologia ed ostetricia perché si mette in dubbio anche questo e che rappresenta tutte quelle donne che hanno desiderato e voluto e sono anche riusciti a fare le mediche ma che sono state osteggiate fino all'inverosimile fino ai nostri giorni dagli uomini io ho un'amica che è una chirurga ho anche un'altra amica che è una senologa chirurga molto brava questa è una chirurga di chirurgia generale che più o meno è sui 70 anni e che quando si era aveva si era iscritta in medicina e poi aveva fatto la specializzazione quando aveva detto che lei si voleva specializzare in chirurgia le avevano riso in faccia le avevano dette di tutti i colori le volevano impedire a tutti i costi di fare la chirurga dice ma perché non ti scrivi non fai l'anestesista e lei è stata tosta siciliana peraltro tostissima ed è diventata chirurga è andata pure in pensione ed è stata un'ottima chirurga e finisco qua e ancora grazie per aver pensato questo tema per averlo sviluppato in maniera così grandiosa aspetto di avere i documenti perché saranno un come si dice un vademecum grazie carmina altre domande vivaci vivace non sento niente come mai questo silenzio Tiziana vuoi aggiungere qualcosa sul smart working sul lavoro attuale del gruppo salute donne CGLC attiva l'audio adesso mi sentite sì 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 e no dico se mi provocate allora parlo il gruppo uno dei temi che stiamo cercando di affrontare adesso è proprio quello dello smart working sono cinque anni che ce ne stiamo occupando perché abbiamo sempre avuto la percezione che era una roba troppo troppo carina perché fosse vera dov'è il trucco in questa in questo meccanismo che lascia lascia la donna la donna al lavoratore l'autonomia di organizzarsi il tempo dov'è il trucco cerca cerca e dopo cinque anni adesso il trucco ce l'abbiamo molto ben chiaro solo che c'è voluto una pandemia per disvelare qual era il meccanismo che stava dietro questa vicenda le lavoratrici dopo abbiamo fatto ben tre questionari credo tre indagini questa abbiamo lanciato adesso la quarta e cioè cosa pensano le lavoratrici e le delegate RLS cosa pensano dello smart working e hanno tutti un'idea molto positiva perché era fatto in quantità e con modalità organizzative abbastanza contenute cioè lo smart working fino a prima della pandemia era più o meno due giornate al mese e quindi erano graditissime da tutti adesso c'è chi è agli arresti domiciliari smart working e viene viene probabilmente vissuto con molto più peso e quella che noi abbiamo chiamato la ricasalingitudine delle donne e cioè il ributtare il mondo del lavoro femminile nelle case perché non sappiamo quanti dei lavoratori che oggi sono allontanati dal lavoro dal lavoro d'ufficio dal lavoro in presenza rientreranno di quelli che rientreranno se ci sarà un vantaggio uno svantaggio di genere questo è tutto da vedere nella mia esperienza le colleghe che fanno smart working sono tutte donne che hanno bambini piccoli o bambini in età scolare e questo ha fatto una selezione spaventosa dal punto di vista della dell'isolamento e dalla espulsione dal lavoro che conta delle donne che diventano delle esecutrici data entry cioè è anche un po' un lavoro senza confronti senza sviluppi ma semplicemente ti do un obiettivo e lo realizzi quindi è un po' squalificante vedremo come va questa quest'ulteriore indagine che abbiamo lanciato cosa ci risponderanno gli uomini e le donne che l'hanno sperimentato sulla loro pelle per quasi un anno posso dire qualcosa anch'io adesso adesso stiamo facendo come centro studi di medicina di genere stiamo rifacendo il percorso non so se l'avete visto di Save the Cibre con gli occhi delle bambine che riguarda un po' tutto il tema e ogni mese ne facciamo uno adesso dobbiamo ragionare sulla parità nella città abbiamo fatto le architetture della città eccetera sulla questione dello smart working io credo che sono d'accordo che è un arresto domiciliare e qui entrano vi do due angoli di osservazione ulteriori il primo come ginecologa consultoriale perché continuo a lavorare nei consultori sto vedendo tantissimi disturbi del ciclo tantissimi e accentuazione di sindrome premestuali di disturbi post climaterici perché è ovvio perché noi siamo come dico il nostro corpo è unico dentro la nostra pelle se noi stiamo male dentro siamo inquieti non ci sentiamo è chiaro che tutto il nostro corpo risponde e non li ho visti nel periodo duro di marzo aprile ho cominciato a vederli adesso ho cominciato da gennaio grosso modo questo secondo me sarebbe un ambito di studi straordinario senza dire le donne sono le solite mal di testa hanno il ritardo perché sono stressate perché la banalizzazione è questa però questa è la prima cosa la seconda faccio adesso la delegata alla sanità sono sempre io ma faccio questo ci siamo mosse con altre amministratrici per chiedere quando è uscito il decreto famoso dell'arte settimana i martedì per il giorno dopo di chiedere l'apertura dei nidi e delle materne per le lavoratrici essenziali e anche qualche elementare che si chiama primario non so come ma chiamiamole elementare bene devo dire che le le operatrici hanno risposto subito non ci sono stati problemi qualche resistenza da parte dell'organizzazione istituzionale politica chi sono i lavoratori essenziali perché naturalmente qualche allegro consigliere assessore ha detto vabbè ma anche l'idraulico essenziale il falegname che lavora in casa cioè come banalizzando l'essenzialità che dicevamo prima però il tema è che adesso dal punto di vista politico ci ritroviamo con tutte le scuole chiuse parti vivi e avendo relazioni dirette con molte operatrici sanitari ai sociosanitari gli stavo pensando una cosa stravolgente oggi però queste continuano a scrivere e dire noi non ce la facciamo con i bambini a casa non è possibile e mi veniva in mente ma noi giocando su questa forza che abbiamo assunto e di cui siamo consapevoli fare tre ore di sciopero bianco delle dipendenti delle sanità e delle sociosanitari e dire noi dobbiamo tenere i bambini a casa non veniamo a lavorare crollano gli ospedali è probabile noi stiamo già crollando il virus sta già crollando però io credo che se noi non poniamo sul piatto di questa bilancia di relazioni oneste tra persone sul piano sindacale politico di il peso che hanno le donne oggi come lavori senza non ne veniamo a capo diventeranno tutte matte a lavorare di qua e di là io ho scritto anche al ministro della sanità come un gruppo di amministratrici abbiamo scritto e abbiamo detto non è possibile se voi volete che le lavoratrici che con competenza generosità e professionalità hanno lavorato continuino c'è bisogno che stiano aperte le scuole per i bambini e le bambine non c'è niente da fare non è possibile oppure c'è bisogno di un congede immediato beh io su questo non ho trovato grandissima disponibilità da parte della parte politica anche dalla parte sindacale non l'ho trovata moltissima perché è ovvio che può essere che possa stare a casa anche il papà certo che può stare a casa anche il papà e quando le donne sono sole e quando lavorano come diceva Siria prima nelle cooperative che sono prevalentemente donne straniere perché il tema è anche questo e quando non hanno tutti i tabelle per tutti e tre o quattro figli oppure lavorano sui telefonini cioè il tema quando dico che le donne sono sulle spalle questo periodo dico anche questo i racconti che mi fanno sono questi oppure un'altra la dico questa che mi ha colpito moltissimo mi ha portato al consultorio accompagnato sua figlia minorenne che dice no no guardi la posso accompagnare io perché quando le scuole superiori l'hanno aperte la sua scuola fa l'ingresso alle 8 o alle 10 da un momento che non ci sono i mezzi per l'ingresso alle 10 per essere sicura di portarla sempre io lavoro in una fabbrica tessile faccio sempre i turni di notte ma vi sembra normale questo ma vi sembra tollerabile questo e lei lo faceva non me l'ha detto per lamentarsi me l'ha detto per dirmi che poteva venire in qualsiasi momento però per dire non è tollerabile più questo quando io parlo di salute di genere mi riferisco a questo a tutta organizzazione di vita del lavoro non è la conciliazione che mi sta stretta è questo io sono molto arrabbiata oggi ho visto quel lume incredibile che è Fontana e col mio sindaco ho detto anche lui però non esiste che voi non mi vaccinate le operatrici dei nidi che stanno lavorando e privilegiate le universitarie c'è qualcosa che non va in questo ma dottoressa sono importanti le universitarie non c'è dubbio ma se noi lavoriamo da questo punto di vista quindi questo lavoro sul genere lo dico in una sede in cui so di essere capita deve prima di tutto entrare nella testa di chi governa anche da sinistra delle organizzazioni sindacali perché non c'è perché non c'è non a caso tu ne stai parlando dentro l'organizzazione sindacale io ne sto parlando a molti livelli però io faccio la ginecologa lavoro solo con donne però insomma da questo punto di vista e nelle mie organizzazioni come dire politico-istituzionale però questo giro qui non viene non viene quando abbiamo parlato e finisco del tema dell'inquinamento perché a Brescia non ci facciamo mancare niente abbiamo anche sito di interesse nazionale se no non è bello quando abbiamo parlato del tema di inquinamento e io ho inviutato i gruppi di donne le donne le mamme volanti di Castemedolo non so se ne avete sentito parlare che hanno lavorato molto mi hanno sapete quante telefonate ricevute abbiamo ricevuto che non dovevano parlare queste perché non sanno parlare di inquinamento ma solo di di scariche ma sapete quante questo è un sapere che va privilegiato giù d'accordo non d'accordo che siamo scusate ma sono molto arrabbiata oggi con tutte queste cose che stanno girando e credo che questo tema che abbiamo affrontato oggi è straordinariamente importante sulle donne straniere a maggior ragione se posso dire concludere grazie posso aggiungere una cosa velocissima anch'io certo vediamo se adesso mi posso se funziona il video così riesco a farmi vedere anch'io no niente sì 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 che piacere brava sembravo nascosta no volevo solo d'accordissimo con gli approfondimenti con gli ultimi interventi volevo solo precisare una cosa sulla questione degli infortuni covid allora se prendiamo i lavoratori deceduti per covid sono l'ottanta per cento sono uomini ma se prendiamo la totalità degli infortuni e sono un numero enorme perché sono cento quaranta centocinquanta mila casi di infortuni o covid quasi il 70 per cento sono donne quindi sul caso totali sono in stragrande maggioranza le donne quindi colpisce il dato degli infortuni mortali ma poiché nulla sappiamo ancora delle conseguenze a lungo termine di questa malattia in particolare cominciano a emergere notizie molto importanti sugli effetti sul sistema cardiovascolare tant'è che sono uscite le linee guida per gli atleti che prima di rientrare gli atleti professionisti prima di rientrare in agonismo anche se hanno fatto un covid in forma paucisintomatica devono comunque essere sottoposti a un screening molto approfondito cardiologico proprio perché si cominciano a evidenziare gli effetti a lungo termine quindi non sappiamo che cosa ci aspetta sul lungo termine e però volevo sottolineare questa cosa quasi il 70% dei casi totali sono donne lavoratrici grazie grazie per queste precisazioni volevo aggiungere un'altra annotazione da quello che mi è parso di capire non avevo idea di questi dati ma sono veramente illuminanti e allarmanti un'altra cosa credo un po' dappertutto che siano passate in secondo piano le altre malattie ma in particolare le malattie oncologiche da quello che mi è parso di capire le donne soprattutto quelle affette da tumore del seno per esempio che ahimè ha delle percentuali importanti o comunque tumore ovarico che è sicuramente più mortale abbiano avuto grande difficoltà a seguire i percorsi di terapia vi consta questo questa è una domanda l'altra questione che da questa scaturisce è che in una proposta di attenzione alla medicina di genere forse bisognerebbe mettere accentuare l'aspetto che vanno garantite le cure questa è una pandemia ma chissà quante ce ne saranno ci dobbiamo attrezzare affinché la società a proposito della salute delle donne si metta nelle condizioni di garantire quelle cure essenziali sto parlando di chemioterapia e simili che spesso sono state interrotte rese difficoltose quindi aggravando una condizione già drammatica per la salute delle donne e l'altro aspetto è quello delle patologie di tipo psichico mi ha sconvolto quello che diceva Donatella Albini che sono aumentate a dismisura le sofferenze anche di tipo ginecologico non ci avevo pensato lì per là ho pensato e certo perché stiamo sempre sedute che qualcosa succede cioè manca proprio la circolazione ma non penso che sia solo quello ma un aspetto complessivo che riguarda la testa il corpo e il tutt'uno mi chiedevo le malattie le patologie psichiche le sofferenze psichiche le depressioni da quello che so mi occupo anche di psicologia sono la detta stampa dell'ordine di psicologi da quello ho capito c'è stato un aumento delle sofferenze di tipo psichico nelle donne peggio che negli uomini in generale so che le donne sono maggiori consumatrici di psicofarmaci in generale questa situazione è peggiorata cioè sono tutti elementi che diciamo di riflessione resi nuovi dalla pandemia avete qualcosa da rispondere? intervengo io sì grazie sì praticamente mi piace qua ricordarvi che praticamente l'epidemiologia prevenzione di vista che liego dirigiamo praticamente ha pubblicato recentemente la nomografia sui primi sei mesi della pandemia e abbiamo raccolto più di 50 lavori e se voi andate su nostro sito potete estrarre il documento con facilità perché è libero l'accesso e alcuni di questi temi che qui sono stati sollevati sono affrontati cioè il problema del 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 fatto come la pandemia ha di fatto impedito molta attività di screening e quindi di tutela dei rischi per esempio per trovare una mammella e già ci sono le prime stime su che cosa si prevede come aumento di incidenza e della malattia e ci sono anche dei lavori che affrontano praticamente quello che sta succedendo e quello che è successo e quello che sta succedendo per quanto attiene le patologie per esempio dei disturbi mentali o delle difficoltà psicologiche vi invito ad accedere a questa orientazione che è libera la rivista Epidologia Prevenzione ha lanciato proprio in questi giorni una call una seconda richiamo e vorremmo praticamente fare una seconda monografia che chiamiamo la pandemia in Italia nel secondo anno di nuovo ci aspettiamo un'ondata di lavoro siamo stati sommersi abbiamo selezionato 50 lavori ma probabilmente un 50% di quelli che sono arrivati rendo conto che voi sapete che l'epidologia ha sempre i tempi lunghi nel senso che produce dei lavori con lentezio in questa occasione diciamo un mondo epidemiologico italiano che ci ha risposto con grande velocità per cui queste osservazioni anche riguardo alle differenze per genere secondo me sono affrontate in più lavori quindi può essere interesse andare a ricercare questi dati grazie possiamo avere il link al sito scusami il link al sito sì lo scrivo grazie credo che abbiamo usato tutto il tempo a disposizione e credo anche che non possiamo chiuderla lì che ci dobbiamo tenere in contatto dobbiamo ricreare nuove nuovi incontri vediamo come fare e per adesso un abbraccio molto caloroso a tutte voi a tutti voi e una buona serata grazie grazie ciao Elisabeth grazie 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 ciao 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 ciao